Eccoci qui Elvira Serafini, si è appena concluso il dibattito tra i sindacati e diversi politici a Roma, un confronto incentrato sul futuro della scuola e come scaturirà la politica a seguire subito dopo le prossime elezioni del 25 settembre. Serafini perché siete critici e credete non fino in fondo alle promesse dei politici? L'abbiamo detto a gran voce che le promesse sono tante, i progetti e i programmi che ci hanno presentato sono tutte belle parole, ma abbiamo chiesto dove prendono i fondi e questa risposta non c'è stata data. Di conseguenza le aspettative ci sono, noi aspettiamo delle risposte concrete, ma ci sono tanti dubbi che veramente dal 26 settembre i nostri problemi così gravi, una scuola che è in sofferenza a 360 gradi perché manca il personale ATA, mancano i docenti, mancano i dirigenti, il precariato è stato del tutto dimenticato in questi anni. Ecco che ora speriamo che ci possano essere delle risposte positive e che veramente la scuola venga messa al centro delle politiche del futuro. Aspettiamo le risposte dal 25 settembre in Polo. Quali sono le tre urgenze da affrontare prima di subito? Le urgenze sono sicuramente la stabilizzazione dei docenti, del personale ATA, dei dirigenti perché se ognuno occupa un proprio posto di lavoro si lavora bene, si risolgono i problemi ma trovare le risorse appropriate per il contratto, per pagare adeguatamente queste figure professionali che lavorano nelle istituzioni scolastiche e non ci dimentichiamo che servono delle risorse per l'università, per la ricerca e per l'AFAM. Sono tutti importanti per creare veramente l'uomo del domani. Aspettiamo delle risposte serie. Bene, grazie Elvira Senafini. Snats! Grazie!